Ciao a tutti, benvenuti su Gossip e Newsita, il vostro canale dedicato alle ultime novità e pettegolezzi italiani. Oggi ci occupiamo di una notizia tragica che ha scosso l'opinione pubblica, la perdita della giovane Giulia Cecchettin. Il funerale di Giulia è stato fissato per martedì 5 dicembre alle ore 11 presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. Potrete seguire la cerimonia direttamente dalla piazza sottostante, grazie alla vista panoramica sulla suggestiva Prato della Valle. La Basilica, capace di accogliere migliaia di persone, privede anche la trasmissione dei funerali su maxischermi all'esterno, consentendo a una vasta folla di partecipare e commemorare Giulia. La notizia della data del funerale è stata confermata dalle epigrafi apparse oggi a Vigonovo, il paese natale di Giulia. Ci aspettiamo una partecipazione significativa, come testimoniato dalle numerose fiaccolate e marce di ricordo svoltasi nei giorni precedenti. Gli esiti dell'autopsia hanno rivelato che la giovane è stata vittima di un dissanguamento causato dalle ferite al collo inflitte dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Turetta, attualmente detenuto in Germania dopo un tentativo di fuga, avrebbe utilizzato un coltello da cucina da 12 centimetri. Se confermato che lo aveva portato con sé, ciò potrebbe configurare il gesto come premeditato. Durante l'interrogatorio di nove ore in carcere, Turetta ha ammesso che qualcosa è scattato nella sua testa nei 25 minuti in cui ha posto fine alla vita di Giulia. Nonostante ciò, aveva dichiarato in precedenza di voler assumersi le responsabilità delle sue azioni. L'atteggiamento collaborativo di Turetta emerge ancora una volta, con il riconoscimento delle due aggressioni precedenti culminate nell'omicidio. Prima di continuare con le ultime notizie, vi chiedo di iscrivervi al nostro canale, lasciare un like se il video vi piace, e commentare la vostra opinione sulla situazione. Ringrazio anticipatamente per il vostro supporto. Ora, passiamo alle prossime notizie sul gossip e newsita.